Ciao, siamo venuti oggi al Tiburtino, ci stiamo divertendo. Questa festa è fantastica, è un momento importante per i bambini perché finalmente abbiamo un punto dove ritrovarci un po' tutti e dedicarci a loro, a delle attività ricreative come spesso accade qui. Grazie al Tiburtino e a tutti quanti gli amici che vengono a giocare con noi. Seguiamo tutti gli eventi anche attraverso Facebook, diamo dei follower del Tiburtino e ci divertiamo. Ci siamo divertiti tantissimo, la bambina è stata felicissima e tutta la settimana che non aspettava altro di venire qua. Gli ho dovuto creare pure il costume, mi stava facendo diventare matta. Tutto fatto in casa. Noi siamo pure fan su Facebook e non ne manchiamo una. Ce le siamo fatte tutti gli eventi del centro di Tiburtino. È una bella festa, poi si fa festeggiare con gli amici, quindi oggi sono venuti al Tiburtino e ho trovato tanti pupazzi e mi sono divertita perché ho fatto le foto con loro. Siamo venuti oggi pomeriggio che siamo qui con i bambini e ci siamo divertiti. Insomma si sono divertiti facendo scherzetto dolcetto. Noi veniamo sempre insomma. Halloween al Tiburtino Solo al Tiburtino, il tuo mondo vicino